Siamo allo sport ovviamente con i campionati del mondo in primo piano, omaggio doveroso alla Francia che avrà avuto pochi tifosi in Italia dove tutti quasi tifavano Croazia ma alla fine l'applauso è doveroso per i Galletti che conquistano il loro secondo mondiale, la seconda stella a distanza esatta di 20 anni da quel 14 luglio 98 quando ad alzare la Coppa fu proprio Didier Deschamps, allora capitano della Francia, oggi allenatore dei transalpini Deschamps-Elysée il titolo d'apertura del Corriere dello Sport, Griezmann-Pogba-Mappé 4-2 alla Croazia, forse nella partita, nella finale in cui la squadra vincitrice ha il minor possesso palla di tutte le finali dei 21 mondiali ma insomma la Francia di Deschamps gioca all'italiana, sarebbe piaciuta a Gianni Brera che era un cultore della tattica del contropiede la Francia conquista il titolo per la seconda volta nella storia, succede alla Germania, l'eroe è il tecnico all'italiana dice proprio il Corriere dello Sport, campione del mondo da giocatore nel 98, da selezionatore 20 anni dopo, come lui soltanto altri due Beckenbauer tedesco, il brasiliano Zagallo, ma oggi è anche la giornata di Cristiano Ronaldo che da ieri è atterrato a Torino vestirà la maia bianconera, tu scendi dalle stelle, titola addirittura il Corriere, Ronaldo è già a Torino, oggi è il Natale della Juve questo per quanto riguarda i titoli nazionali ma li troviamo anche sul dorso sportivo della nazione che divide proprio in due questa giornata Re Sole e Remida, il Re Sole ovviamente è Mbappé, il giovanissimo gioiello francese, 19enne, miglior giovane del mondiale autore di un grande gol, ieri praticamente ha messo in ghiaccio la gara il 4 a 1 e Remida invece è tutto quel che tocca è oro e soprattutto per lui diciamo Cristiano Ronaldo sbarcato a Torino, oggi il CR7 dei ma tutto ciò che tocca finora è diventato oro c'è anche un richiamo per il Perugia, settimana calda di Carmine deciderà il suo futuro in corsa per Vido e vediamo proprio all'interno oltre ovviamente ai servizi sul mondiale vediamo giusto le prime due pagine per ricordare la serata di ieri Pogba, Mbappé mondiali, la Francia è campione, l'esultanza del premier Macron il mondiale più bello secondo Italo Cucci lo ha vinto lo Tsar ovvero lo Tsar è Putin l'organizzatore del mondiale che inevitabilmente, questo accade, il fenomeno un po' sociale del calcio è questo sociale anche politico, spesso i capi di Stato beneficiano anche di gradimento laddove l'organizzazione funzioni alla perfezione, non è un caso che alle finali dei mondiali siano sempre presenti i premier o i capi di Stato tanto talento e un calcio all'italiana proprio nel mondiale in cui l'Italia non c'era e la scuola italica, tattica soprattutto, fa scuola anche oltre Alpe fiero e deciso di di meglio di Napoleone Deschamps ha preso molto anche dal suo tecnico Juventino Lippi nel saper gestire il gruppo e nel saper dosare le risorse e poi incoronati dopo la finale, Modric come miglior giocatore meritato il premio per il Croato e Mbappé come miglior giovane del torneo ma la nazione ci porta, come dicevamo, anche in Umbria in Umbria dove ovviamente si parla di Perugia Terzino e Bomber, due nodi da sciogliere settimana calda per Di Carmine che darà la sua risposta se restare o meno in quei grifoni il grifo resta in corsa per Vido abbonamenti, lieve calo rispetto alla stagione scorsa mentre Magnani saluta tutti, va a Sassuolo, giocherà in Serie A la nord è da pelle d'oca, dice mentre Diamanti, ormai un ex, fa un bagno di folla a Livorno dove ritorna ad accoglierlo, ci sono 2000 tifosi la Ternana si comincia a sudare, ha iniziato il ritiro di Casci in attesa del possibile ripescaggio sempre più probabile visto che ci sono Bari e Cesena in forte bilico Gubbio, la rosa inizia a fiorire, 5 arrivi, grande fermento lo spogliatoio starebbe per arricchirsi di nuovi nuovi e la novità dell'ultima ora è il ritorno di fiamma di Simone Palermo il cui ritorno in rosso-blu sembrava sfumato sembra invece che ci siano nuove possibilità a Foligno, nuovo assetto societario, abbonamenti al via il Presidente spiega i cambiamenti, siamo diventati un SRL c'è entrato l'obiettivo che ci eravamo prefissati questo per la Nazione che lasciamo andiamo al Corriere dell'Umbria, settimana clou la scelta di C10, ovvero di Carmine gli altri colpi, caccia un difensore, un terzino e una mezzala intanto cambia casacca, Santo Padre Junior portiere, sceglie la Paganese giocherà in Serie C a Pagani la Pallavolo, Sir Perugia contro tutti Sirce ha costruito un team per continuare a vincere Lube, Modena e Trento sono ben attrezzate e il Ronaldo della Pallavolo se lo ha preso Sirce appunto il Cubano Leon e poi Cesena out, spera il Bari qui siamo in Serie B di calcio ma spera soprattutto la Ternana Romagnoli praticamente fuori mentre in Puglia c'è l'accordo per ricapitalizzare ma anche in caso di esclusione delle due società la Ternana non è sicura del ripescaggio ancora una giornata drammatica per le società storiche in gravissime condizioni nel frattempo da oggi fino al 5 agosto i Rossoverdi lavorano a cascia esordinanno il 29 luglio in Coppa Italia a Gubbio Palermo ha scelto col cuore il Corriere dell'Umbria dà per certo che Palermo tornerà a Gubbio il centrocampista sul suo profilo Facebook scrive i soldi li metto in secondo piano insieme al tecnico di Cantiano Sandriani a Gubbio ha raggiunto la Team Cup nel 2012-2013 dopo il colpo messo a segno in silenzio scrive il Corriere adesso il DS Pannacci lavora per altri 4 acquisti ci sono un portiere Zuccagno Marchegiani un centrocampista appunto Palermo un centravanti ma resta un punto interrogativo e un esterno alto Minelli Sandriani intanto è allenatore UEFA sui banchi ha studiato con l'ex portiere di Milano e nazionale brasiliana Dida il Todi invece punta sui giovani per la crescita si guarda al modello spagnolo messi a punto i quadri tecnici per la prossima stagione mentre il Canara supera l'esame Covisod ed è quasi fatta per il ripescaggio in serie D dopo aver perso la finale nazionale ciclismo Bartali inedito svelate le lettere dal Tour del 48 la nipote Gioia ha letto alcuni brani scritti da Ginettaccio inviati alla moglie durante le giornate della Gran Bucle a Spoleto mentre Letizia Brufani venendo al ciclismo di oggi coglie la prima vittoria tra le allieve esordienti Brunori e Burani trionfano nelle marche sempre per il ciclismo Unione ciclistica Foligno-Stars la cava bene alla battitura bel successo per la gara riservata ai giovanissimi mentre per il polismo Petrini sia alla Badiola nel verde insieme a Francesca Dettori Pallavolo Umberti d'ambiziosa sotto rete alla guida della prima squadra c'è Maddalena Rosi l'ex storico coach Violini diventa DS il nuovo presidente AGEA dice lavoriamo per la crescita delle giovani e per centrare la Serie C e poi ancora Foligno Girasole giorni splendidi a Spoleto momenti d'oro per la società Boeri conquista il quarto Scudetto di prestigio lasciamo anche il Corriere chiudiamo col messaggero Grifo e DC10 i giorni della verità Samuel De Carmine il bomber sta riflettendo sulla proposta di rinnovo la risposta è attesa tra mercoledì e giovedì dal Verona offerti bonus per promozione numero dei gol ma il club Scaligero sta già valutando svariate alternative l'accordo la Serie B sarà anche su Premium Calcio quindi su Mediaset e quindi non sarà più su Sky e poi lezione mondiale servono velocità e tecnica scrive Claudio Cagnazzo c'era una volta un gigante buono con un gran tiro il profilo di Enzo Scaini nelle storie del Grifo raccontate da Corrado Losito siamo a Terni salto nel buio per la Ternana Rosso Verde il ritiro in attesa di capire come andrà a finire la vicenda del ripescaggio una squadra che inizia il ritiro senza sapere esattamente quale campionato disputerà per il centrocampo spunta l'esterno Martigno al gruppo dei 20 si è aggiunto Giraudo del Torino motociclismo Petrucci vola ma perde il polio all'ultimo giro il Ternano rimasto sempre col gruppo di testa ha subito l'attacco di Marchezzerossi prima di finire quarto con qualche polemica con Lorenzo e poi Gubbio Palermo ci ha ripensato il centrocampista torna nuovamente vicino al Rosso Blu col 29enne uscirebbe di scena Alessio Benedetti il tecnico Sandriani spinge per avere l'esterno Minelli che vediamo nella foto potrebbe rientrare dal Trapani sarebbe un gradito ritorno anche Daniele Ferretti e poi la pallavolo Bartocini per posto 3 arriva Luisa Casillo mentre Tennis Internazionale di Perugia vince il pubblico edizione promettente il torneo cresce torniamo al calcio Foligno ora tocca la città l'azionariato popolare in realtà formula già usata altrove per abbracciare tutti quelli che vogliono partecipare primo segnale positivo dagli sponsor tante conferme nuovi arrivi lavoriamo per altri accordi dicono dai vertici l'Azzurra Race Team funziona nel nuoto una cantera di campioncini Perugia Basket perde Gomez e prende Frolov da Rieti mentre per la pallavolo la Monini sarà nel girone bianco e troverà le avversarie di sempre infine a Città di Castello una nuova disciplina va di scena la sfida di orientering per gli appassionati di questo particolare sport ci fermiamo qui ma non finisce qui la nostra rassegna stampa perché ora tocca al meteo finalmente SEP c'è il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in Via dell'Arboreto una giornata un po' più bagnata e rinfrescante quella di oggi almeno nelle previsioni di Rick Meteo vediamo la grafica giornata che si apre con cieli parzialmente nuvolosi su tutto il territorio regionale ma senza rischio precipitazioni in mattinata nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento che produrrà locali rovesci localizzati e di breve durata soprattutto in Appennino nelle zone orientali della regione rovesci molto localizzati che si alterneranno ad ampi spazi scusate ad ampi sprazi soleggiati temperature sia minime che massime in stazionare di qualche grado al di sotto della media del periodo minime comprese tra i 15 e i 18 le massime tra i 26 e i 29 gradi il meteo torna stasera proprio con Riccardo Rossi prima dei nostri appuntamenti del TG alle 19.30 alle 20.20 a seguire ovviamente il TG Sport e poi il TRG Plus io vi ringrazio per l'attenzione seguiteci nel corso della giornata anche su trgmedia.it Grazie a tutti